La preoccupazione per i vaccini non ferma la campagna. Pronta la nuova circolare con cui il Ministero della Salute ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino Vax Zevria di AstraZeneca. La circolare, inviata a regioni, istituzioni ed associazioni, ribadisce che il vaccino è approvato ai 18 anni di età. Sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte dell'elevata mortalità da Covid-19 nelle fasce di età più avanzate, si legge, si rappresenta che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone sopra i 60 anni. Chi ha già ricevuto una prima dose Vax Zevria può completare il ciclo col medesimo vaccino. La Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco rileva che al momento non sono stati identificati analoghi segnali di rischio di eventi trombotici per i vaccini a mRNA. Non è invece ancora possibile esprimere un giudizio in merito ad altri vaccini che utilizzano piattaforme vaccinali virali. E quanto si legge nel parere del CTS è allegato alla circolare e il Ministero della Salute sull'aggiornamento delle raccomandazioni per il vaccino anticovid di AstraZeneca. Il CTS sottolinea quanto affermato anche dall'EMA, cioè che il bilancio beneficio-rischio del vaccino si conferma complessivamente positivo. Non arretra il generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, che ha dichiarato «il piano non cambia, a fine mese dobbiamo arrivare a 500.000 dosi giornaliere». Da oggi l'inoculazione del vaccino AstraZeneca è aperta alla platea dei 60-79 anni, mentre gli under 60 che hanno già ricevuto la prima dose riceveranno anche la seconda. L'EMA, ha sottolineato il generale, ha detto che AstraZeneca è un vaccino sicuro e spero che la vicenda si concluda così.